Ragazzi, scusate, siete italiani? Allora, sono Alessia, sono una fotografa di moda. Sì, ti faccio! Ti prego, ti posso fare le foto? Sei bellissima! Come ti chiami? Adele. Adele, ok. Allora, ti chiedo di camminare su Via Condotti, molto piano. Ma posso vedere il tuo outfit? Cos'hai sotto? Ah no, la giacca non sono... Ma forse! No, per capire se ti posso far giocherellare con la giacca, sennò la puoi tenere chiuta. Vabbè, ti prego! Allora, mamma mia, tu sei bella, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Gioca con la tua pelliccia, gioca anche con i capelli, cioè tu cammina, muovi la giacca, muovi i capelli. Camminare verso di me, molto piano, e muovi la giacca, guardi di qua, tocchi io, quello che vuoi. Sei libera. Ok, ricomincia, ricomincia. È un po' tesa, però è sighissima. Io sento i loro commenti in tutto ciò. Ma guarda che bella che sei! Ciao! Grazie a tutti.